Sindaco Giacomo Pascale, oggi un episodio increscioso che riguarda il più antico reperto dell'isola d'Ischia, la Coppa di Nestore. Che cosa è successo? È successo che, spiegabilmente, la sovrintendenza di Napoli, senza nessuna comunicazione ufficiale, senza nessun confronto, alla vigilia di un ponte così importante dove si aspetta un po' di turisti a Ischia, praticamente prende la Coppa di Nestore e ci dice verbalmente che per una ventina di giorni sarà esposta a Baia. E dunque, che cosa chiedete in futuro? Ma non è un problema di chiedere. Noi siamo orgogliosi quando la Coppa di Nestore è in giro, viaggia, soprattutto quando viaggia in località, ecco, da Baia fino a Parigi piuttosto che a Londra. Il problema è che noi ultimamente abbiamo, come tutti sanno, molto investito sui beni culturali. C'è stata una campagna di pubblicizzazione del nostro museo, della Coppa di Nestore, che evidentemente è il reperto più importante, all'interno dello stesso museo, sia con fondi regionali, sia con fondi comunali, sia con fondi dello stesso Ministero dei beni culturali. Ho informato il Ministro San Giuliano di quanto è accaduto, sto provando a mettermi in contatto col sovrintendente per avere una spiegazione, per avere, diciamo, una spiegazione di quanto è accaduto, soprattutto senza nessuna comunicazione. Io credo che sia uno sgarbo inaccettabile dal punto di vista istituzionale, sicuramente non è il modo migliore in uno spirito di collaborazione tra enti, tra il Comune e la sovrintendenza. Quindi resto obbasito francamente per quanto è successo, e condivido chiaramente la rabbia, tra virgolette, la delusione dell'assessore vice sindaco Carla Tufano, che appunto si è spesa per poter organizzare una campagna, diciamo, di stampa, una campagna pubblicitaria, una campagna di eventi, tutto intorno alla Coppa di Nessore, mentre invece registriamo che i dipendenti del nostro museo hanno visto arrivare questo furgone, dove la Coppa è stata presa ed è stata trasportata in un altro sito.